Il caldo c'è, la gente che è curiosa fra gli stand pure, tutto come al solito sembrerebbe e invece non proprio. Quest'anno la tradizionale fiera merceologica di San Pietro si svolge a Cremona in una sola giornata, domenica e non per l'intero weekend, come accadeva nelle scorse edizioni. In quanto fierista, che non è di zona, siamo molto dispiaciuti di aver tolto il sabato, che secondo me era proprio anche un'occasione di festa per la città di Cremona, perché io è tanti anni che vengo e ho sempre visto tanta gente. Per noi che veniamo da fuori vuol dire comunque le solite spese e meno tempo per lavorare. Come sempre qua c'è tanta gente, quest'anno hanno fatto solo la domenica, ma diciamo che va bene anche così, perché è bello venire anche il sabato, però è più pesante, invece solo la domenica risulta più fattibile insomma. Le bancarelle oggi sono tornate ad animare Via Lepò, dove resteranno allestite fino a mezzanotte. Per moltissimi cremonesi è un appuntamento irrinunciabile che idealmente sigla l'avvio dell'estate in città. C'è chi si aggira di prima mattina per trovare gli articoli più interessanti, qualcuno invece arriva per pranzo in modo da assaggiare piatti tipici di altre zone d'Italia, come la porchetta di Ariccia. Qualcun altro infine fa capolino verso sera, abbinando le vasche in fiera a un giro a Luna Park. Abbiamo preso dei taralli, delle coperte, delle borsette, avrei preferito anche al sabato, però se hanno deciso di fare solo un giorno va bene lo stesso. Sto ancora curiosando, però ho già fatto shopping. A casa mia è la tradizione, il giorno di San Pietro si doveva venire a fare lo shopping. Il prossimo appuntamento è con lo spettacolo pirotecnico, giovedì 29 giugno alle 22.30, quando i fuochi illumineranno il cielo di Cremona per circa 20 minuti.